Provengono da blasonate con pagine europee, come i Wiener Philharmoniker e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, pronti a condividere la propria esperienza con gli astri nascenti degli strumenti ad arco. Sono i dieci artisti che, in veste di docenti, partecipano al progetto Concert Master Artist Diploma, promosso dallo Stauffer Center for Strings di Cremona, per dare l'opportunità agli allievi di seguire masterclass esclusive. Le prime elezioni del 2022 sono a cura di Roman Simovic, primo violino della London Symphony Orchestra. Per me Cremona è un posto speciale, pieno di botteghe di liuteria. Inoltre suona uno strepitoso violino stradivare i 1709 ex-natchets, quindi è un'emozione sentire che adesso questo strumento è a casa. Sono dieci giovani allievi selezionati, fra le oltre 70 candidature pervenute da tutto il mondo. Approfondiranno insieme con i docenti il repertorio sia solistico che orchestrale, sviluppando in particolare le qualità necessarie a ricoprire il ruolo di primo violino di spalla. Al giorno d'oggi i giovani musicisti fanno fatica ad essere ingaggiati perché spesso gli insegnanti non hanno esperienza nell'organico di un'orchestra, quindi avere come docenti concertmaster di famose compagini europee è una incredibile opportunità per noi. Le lezioni proseguiranno con un'alternanza di musicisti fino all'estate.